Ciao ragazze e benvenuti in questo video dove parleremo di cellulite in maniera scientifica ma molto molto semplice e di tutti quei fattori scatenanti che serve conoscere per eliminarla. Prima di tutto la cellulite colpisce dall'85 al 98% delle donne, quindi colpisce tutti ed è molto importante capire che è un discorso multifattoriale, ovvero dipende da molti fattori. Prima di tutto dalla concentrazione di estrogeni, che quindi saranno maggiori se prendete contraccettive orali, se siete in gravidanza o in allattamento. Può dipendere anche dal fumo, quindi se siete delle fumatrici purtroppo incide. Dipende sicuramente anche dalla dieta, in quanto ingrassando aumenta la grandezza degli adipociti che spingono contro il derma, possono poi creare in caso di infiammazione, perché la circolazione non circola bene, dei noduli fibrosi che di seguito non possono diventare duri e possono creare la pelle a buccia d'arancia o poi quando diventeranno più duri e più grandi, pelle a materasso. E quindi è anche molto importante controllare l'alimentazione, evitare di ingrassare ma anzi seguire una dieta ipocalorica e soprattutto idratarsi abbastanza, perché un corpo che è disidratato tende ad accumulare acqua ricche di scorie che va a finire nell'acqua extracellulare, che forma la ritenzione idrica e ostacola la nostra circolazione. Mentre un corpo ben idratato ha un buon turnover tra acqua intracellulare ed extracellulare e soprattutto mantiene l'acqua intracellulare, perché è sempre acqua fresca e ottima per le nostre cellule. Quindi, adesso che sai che la cellulite dipende da tutti questi fattori, come puoi pensare, se già magari ti alleni, di poter eliminare allenandoti semplicemente due volte a settimana senza nessun criterio specifico e mangiando normalmente? Assolutamente no, in questo modo non se ne andrà mai. Prima di tutto bisogna cercare con l'allenamento, quindi deve essere un allenamento molto specifico, ossigenare i tessuti in cui è presente questa cellulite e sempre con l'allenamento indirizzare un miglioramento della circolazione sfruttando le pompe muscolari, portando quindi i liquidi che altrimenti ristagnerebbero nella parte inferiore del nostro corpo verso l'alto. Anche questo si può fare con un allenamento specifico. In seconda opzione, curare l'alimentazione in modo tale quindi che ci sia un buon equilibrio tra il sodio e il potassio che permettono quindi una buona idratazione e di evitare che tutta l'acqua intracellulare vada in extracellulare. Questo equilibrio si può mantenere abbassando leggermente il sodio e aumentando l'introito di potassio. Cosa significa? Significa avere una dieta non ricca di sodio, o meglio iposodica, e integrare con dei semplicissimi integratori il potassio se non dovesse abbassare quello presente in frutta e verdura. Un'altra cosa molto molto importante è migliorare la circolazione, che se da una parte fate con l'allenamento, dall'altra dovete curare per tutte le restanti ore della giornata e non solo in quell'oretta che dedicate all'allenamento, che può essere sospendere o diminuire l'uso dei tacchi, che può essere dormire con un cuscino sotto le gambe, che può essere fare degli sciacqui di acqua fredda e acqua calda al mattino, che può essere godervi un massaggio linfodrenante una volta al mese, una volta a settimana, sono tantissimi piccoli accorgimenti, come ad esempio non accavallare le gambe, che troverete tutti nel link alla fine del video, gratuiti per voi. Un'altra cosa molto importante dopo aver curato la dieta, aggiustato l'allenamento, aggiustato l'idratazione e aggiustato la circolazione, è sicuramente ricordarsi di fare stretching, perché lo stretching rilassa i nostri muscoli, migliora la circolazione tra di essi e può influire tantissimo sulla ritenzione idrica e quindi sulla cellulite. Vi posso consigliare di fare una mezz'oretta la sera prima di andare a letto, tutte le sere, non solo i giorni che vi allenate, soprattutto concentrandovi sulla parte inferiore del vostro corpo. Se già vi allenate ma non avete ottenuto tutti questi risultati, probabilmente è perché non avete considerato tutti questi fattori, quindi il discorso equilibrio tra sodio e potassio, il discorso idratazione, bere sempre più di 2 litri, il discorso dieta ipocalorica, perché serve comunque indurre un dimagrimento, serve dimagrire, e soprattutto la circolazione e l'allenamento che sia atto a ossigenare i tessuti e a migliorare la vostra circolazione. Seguitemi su Instagram e su Facebook, sulla mia pagina Saramel Fit e Saramel, dove troverete sempre continui video e aggiornamenti e curiosità sulla cellulite e sul dimagrimento localizzato femminile. Vi mando un grosso bacio, grazie per aver visto il video.